A San Giuliano del Sannio si sono svolte oggi i funerali del giudice Giovanni Falcione, figura di spicco e intergerrima nella magistratura del Molise. La nuova Oti di Isernia resta al palo, le incertezze giudiziarie sul mercato del lavoro incidono negativamente sul futuro occupazionale e manifatturiero. Una serie numerose di emendamenti e interrogazioni dal parlamentare del PD Roberto Ruta al Senato, slitta invece la conferenza congiunta con frattura. Con una prova di cuore il termo riconquista al carnarsi tre punti nello scontro diretto contro la Vis Pesaro, cadono il Campobasso e l'Agnonese. Ben trovati i gentili telespettatori, una lunga malattia lo ha strappato alla vita e al suo lavoro a soli 51 anni, persona di spessore culturale, dalle doti professionali e umane rare. Oggi a San Giuliano del Sannio l'ultimo abbraccio al giudice Gianni Falcione. Monica Surace In tanti, tantissimi, questa mattina nella chiesa di San Nicola a San Giuliano del Sannio hanno voluto dare l'ultimo saluto a Gianni Falcione, il magistrato molisano venuto a mancare ieri. 51 anni da tempo ormai combatteva contro un brutto male, un male che alla fine ha vinto strappandolo alla vita e a quel lavoro che amava e che svolgeva con onestà e dedizione. Dopo una parentesi al Tribunale di Vasto era tornato in forza a quello di Campobasso e fino a qualche giorno fa era nelle aule del Palazzo di Giustizia. A San Giuliano proclamato il lutto cittadino, mentre oltre la madre, la sorella e tutti i parenti ed amici hanno partecipato alle segue e anche le autorità civili, politiche, religiose e militari. Gli sguardi sulla bara coperta dalla sua toga. La morte di Gianni Falcione colpisce tutti quelli che hanno avuto l'onore di conoscerlo, la fortuna di averlo amico, le parole del Presidente della Regione Paolo di Laura Frattura. Gianni era una bella persona come poca in giro, lo è stato nella vita quotidiana e lo è stato come giudice. Un magistrato giusto e serio, ne sentiremo tutti la mancanza. La morte di Gianni mi addolora sia come uomo delle istituzioni che come semplice cittadino, essendo lui e la sua famiglia proprio di San Giuliano del Sagno, il mio paese. L'intervento del Presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, lo ricordo come magistrato attento e scrupoloso, lontano dalle telecamere, anche quando lavorava su inchieste di una certa risonanza, avvasto come a Foggia, come a Campobasso, un uomo mite e sincero, una persona accolta e perbene, di una profonda sensibilità. Giudice ma anche docente di certa preparazione e sano equilibrio, il ricordo del Sindaco di Campobasso, Antonio Battista. Dal furto alla detenzione di stupefacenti, dal falso alle violazioni in materia di norme di lavoro, i carabinieri del Comando Provinciale di Iserni hanno denunciato 14 persone complessivamente. Tra essi un casertano di Collematese, titolare di una ditta boschiva, che aveva presentato al comune di Montaquila una polizza fideusoria falsa. A Monte Roluni, invece, due quarantenni del posto sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica dai contatori Enel. Infine, per possesso di alcune dosi di cocaina, sono stati segnalati altri due giovani consumatori, sempre di Monte Roluni. Un disoccupato di 51 anni dovrà rispondere di spaccio di cocaina in una perquisizione effettuata nelle strade di Boiano. I carabinieri hanno rivenuto, nascoste nella sua panda, 11 dosi di stupefacente, 250 Euro, provento dell'attività illecita dello spaccio, sotto sequestro le dosi e il danaro. Il Presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Niro, tira le somme del 2014, oggi a Palazzo Moffa, il bilancio dell'attività dell'Assemblea. Tanto è stato fatto, ma tanto di più c'è da fare. Il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Niro, oggi ha tirato le somme dell'attività dell'Assemblea di Palazzo Moffa, con riferimento all'anno che sta per chiudersi. Prima però ha ricordato il giudice Gianni Falcione, scomparso ieri, il ricordo del valore dell'uomo e del magistrato. Poi l'attenzione rivolta alla stampa per la passione, le capacità e la pazienza nel seguire i lavori dell'assise. Infine il bilancio, un bilancio che registra purtroppo le grosse difficoltà economiche che attanaiano l'intera regione. Testimonianza ne sono la disoccupazione, le famiglie allo stremo e le aziende in crisi. I disagi sono evidenti e si sono visti con la costante presenza di lavoratori e cittadini durante le singole sedute del Consiglio regionale. Ma si guarda avanti, ha ribadito il Presidente Niro, nonostante momenti bui e purtroppo a volte la cattiva politica. Non bisogna quindi lasciare spazio al pessimismo, ma lottare forti del messaggio di speranza lanciato da Papa Francesco che in Molise ha portato una ventata di entusiasmo e di forza. I tempi restano comunque critici e serve tagliare gli sprechi, così come la Regione in questo anno ha fatto, eliminando specifiche figure ed assorbendone le funzioni presso uffici preesistenti. Gli sforzi continueranno riducendo le spese e difendendo l'autonomia del Molise. Nel consuntivo di quest'anno noi portiamo a casa un buon risparmio, una buona razionalizzazione, un buon intervento su tutti i vari settori dove potevano avere una più attenta razionalizzazione. Abbiamo fatto uno sforzo molto grosso e credo che questo fine anno portare un buon 18% di risparmio in termini generali di economie sia stato un obiettivo che ci siamo fissati all'inizio dell'anno. Faremo sicuramente meglio, il 2015 credo che partiremo con ulteriori riforme importanti che riguardano la nostra Regione e non solo, ma continueremo a mantenere alta l'attenzione soprattutto nel rapporto con lo Stato italiano e soprattutto con la Comunità europea. Abbiamo in cantiere la nuova legge che riguarda il rapporto con la Comunità europea sulla Sussiderietra, abbiamo in cantiere già la nuova legge che va ad organizzare la conferenza dell'autonomia locale, abbiamo in cantiere tanti altri progetti di legge che devono far guardare a questa Regione come un modello italiano. Io credo che ci possiamo riuscire lavorando in maniera seria, corretta come l'abbiamo fatto in questo anno. Nell'occasione il Presidente Niro ha ringraziato il suo ufficio e domaggiato la bravura della piccola Claudio Averrillo di Rotello che ha conquistato il secondo posto alla finale dello Zecchino d'Oro. I riconoscimenti non sono mancati poi per l'impegno della Croce Rossa ed in particolare per il primario del reparto di ortopedia Termoli di Stefano e lo scomparso neonatologo Padalino, entrambi in forza all'ospedale di Baghdad nel 2003. Il vertice della provincia di Campobasso, ossia il Presidente Rosario De Matteis, ha fatto il punto della situazione delle attività svolte nell'anno che sta per chiudersi. Il ringraziamento alla stampa per aver seguito le sorti di Palazzo Magno, nonostante le difficoltà economiche che stanno vivendo entrambe le province molisane. Gli auguri al saluto ai malati e molisani che lavorano fuori regione, al mondo della scuola. Ho cercato, ha fatto sapere il Presidente De Matteis, di razionalizzare le risorse. Mi sono impegnato con altri Presidenti per evitare lo smantellamento degli enti provinciali. Le officine tessili italiane di Isernia, nonostante i proclami, non riescono a decollare nel campo manifatturiero nazionale. La società, nata dalle ceneri dell'ITR di Petto Ranello, ha vissuto un'ultima parte dell'anno tribolata. Ad incidere negativamente, ricordiamo, gli arresti a Milano per il Presidente Antonio Rosati, accusato di frode fiscale e il sequestro di capi d'abbigliamento griffati ferrè, ma ritenuti contraffatti dal Tribunale di Isernia. Per i dipendenti della ex-ITR, il 2014 è stato un anno avaro di soddisfazioni e il ritorno al lavoro è ancora molto lontano. Intensa e qualificata l'attività parlamentare del Senatore Roberto Ruta. In questo 2014, a Palazzo Madama, come primo firmatario, ha presentato al Governo nazionale ben 225 emendamenti. Il servizio. È stata molto intensa l'attività istituzionale nella capitale del Senatore Roberto Ruta, capogruppo della Commissione Agricoltura del Partito Democratico a Palazzo Madama. Zotecnia, comparto ittico e rurale, attività a favore dei meno abbienti e molto altro ancora nei numerosi emendamenti e interrogazioni al Governo del Premier Matteo Renzi, in meno di 20 mesi di presenza tra gli scranni del Senato. Nel lavoro politico di Ruta, anche 11 voti contrari alla linea del suo partito, voti definiti in gergo ribelli. Nel campo dell'agricoltura, il parlamentare molisano è riuscito nell'intento di spostare il pagamento dell'Imu al 26 gennaio, ma già nei prossimi giorni saranno avviate a Roma le discussioni sui nuovi criteri da seguire in materia. Il decreto legge competitività apre agli agricoltori l'accesso al credito e favorisce il ricambio generazionale. Inoltre, sempre nel settore, il Senato ha fatto propria la lotta al precariato, attraverso una serie di misure contributive, in pratica uno sgravio di 8 mila euro per ogni azienda che riesce a trasformare a tempo indeterminato contratti di lavoro stagionali. Alle stesse imprese rurali verrà poi garantito, con un apposito emendamento alla legge di stabilità, il costo del lavoro dall'imponibile IRAP. L'Istituto Ismea, dai nuovi accordi parlamentari, invece, potrà aiutare gli agricoltori in anticipi di finanziamenti pubblici nell'ordine di tempo tra 30 e 45 giorni. Per la pesca, invece, il Governo garantirà, anche nel 2015, 30 milioni di euro di cassa integrazione in deroga. Ruta si è impegnato a fornire sostegno al comparto itico nazionale e acquacoltura e ancora nell'attività politica di quest'anno voluto ricordare gli 8 milioni al Fondo per Indigenti al fine di garantire alimenti ad almeno 300 mila famiglie italiane in difficoltà e a un milione di bambini che nel Paese non hanno certezze di un pasto quotidiano. Sempre su questo tema, il Governo nazionale ha approvato un emendamento per portare sulle mense dei poveri prodotti ortofrutticoli non venduti nei mercati ma freschi di giornata, altrimenti destinati al deperimento. Infine, ma non meno importanti sono gli emendamenti che garantiranno, anche in futuro al Molise e come al resto delle altre realtà regionali, almeno la presenza di due senatori in Parlamento. Per il Corpo Forestale dello Stato ci sarà piena operatività e la richiesta di nuove competenze con funzioni di Polizia Provinciale. In ultimo, Roberto Ruto ha voluto ricordare alla stampa le battaglie vinte sul taglio ai patronati e sul Fondo per l'Unione Ciechi. Sono circa 3.600 in Italia malati di sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa che porta alla morte cellulare. Contro questa gravissima patologia, gli studiosi dell'Istituto Neuromed di Pozzilli aprono una nuova strada alla medicina terapeutica. Una ricerca scientifica evidenzia le possibilità offerte da molecole che agiscono su determinati recettori delle cellule del sistema nervoso centrale e del midollo spinale. Il dottor Antimo Aiello è stato nominato membro del Comitato Nazionale di Diabete Italia. La nomina quadriennale è un riconoscimento importante per il professionista e anche per l'intera unità di diabetologia all'ospedale Cardarelli del Capoluogo. Tredicesima mensilità in ritardo per i dipendenti della sanità pubblica. Le incertezze derivanti dal piano di rientro del debito accumulato dall'ente regione si stanno ripercuotendo sul personale medico e infermieristico. Ricordiamo come il debito sanitario del Molise si avvicina ai 400 milioni di euro. Fra un mese esatto alla Marepronto di Termoli, azienda legata al gruppo Arena, termineranno gli ammortizzatori sociali. Finisce nel peggiore dei modi l'esperienza occupazionale per 81 unità. Per noi Emiliano Verazzelli. Sono 81 i dipendenti dell'ex Arena Marepronto di Termoli ad essere finiti nelle liste di mobilità. L'azienda termolese è specializzata in prodotti ittici surgelati che fa capo all'omonima azienda Matesina, aveva da qualche tempo cambiato la propria denominazione in FIS, fabbrica italiana surgelati. Ma dopo gli infiniti problemi economici delle scorse annate, la FIS non è riuscita a trovare nessuna strada per poter riprendere a pieno regime la propria attività. Così tra qualche settimana per i dipendenti scadrà anche la cassa integrazione straordinaria che era stata decisa a febbraio 2014. Terminerà precisamente il 22 di gennaio del nuovo anno per gli 81 dipendenti non ci sarà più alternativa se non quella della mobilità. Un esito prevedibile che era già nell'aria, diverse erano state le manifestazioni dei lavoratori davanti ai cancelli dell'azienda, si erano trovate soluzioni solo provvisorie, prima con la cassa integrazione a rotazione per una parte dei dipendenti, poi quella straordinaria per un anno intero, grazie all'attività delle organizzazioni sindacali, della RSU, dell'Associazione Industriale del Molise e dell'assessorato regionale al lavoro. Fai CISL e Fai CGL in prima linea erano ottimisti sulle soluzioni future, ma in seguito nessun gruppo internazionale ha rilevato l'attività come ci si aspettava nei mesi precedenti. Finisce così nel peggiore dei modi una situazione già critica di un settore produttivo tra i più importanti del territorio basso molisano. A parere del sindacato Scuola Gilda, il ministro dell'Istituzione Giannini si dichiara disponibile a fare marcia indietro rispetto all'abolizione degli scatti d'anzianità, scatti previsti nel piano nazionale della buona scuola. L'attenzione della Gilda sarà adesso quella di pressare il governo Renzi affinché mantenga l'anzianità di servizio nella progressione della carriera dei docenti. Siamo agli spettacoli, si è svolto nella serata di oggi nella chiesa madre di Guglionesi, il tradizionale concerto natalizio, sul parco l'orchestra dei Sanctis. Tutti i brani sono stati arrangiati dai maestri Gianluca Delena, Loris Fiore Fernandonese e Evan Spilotro. Un Natale de Mammuccio è lo spettacolo della serata al Teatro Savoia di Campobasso per la regia di Patrizia Civerra. L'intero incasso della commedia Invernacolo sarà devoluto all'Associazione Moli Rari del Capoluogo che da tempo si occupa dell'assistenza ai malati di sclerosi. E adesso passiamo come ogni giorno al meteo. Sulla regione stellato dalle ore della sera, le temperature odierne sono comprese tra i 4 gradi la minima a Disernia e 14 gradi la massima a Termoli. Ventilazione occidentale, poco mosso l'Adriatico centrale. Domattina ancora sole su tutto il territorio, valori climatici in leggero aumento, i venti ruoteranno deboli da sud-ovest. Nel calcio di Serie D la maceratese mantiene la vetta del girone F. Inmutato il quadro anche nell'eccellenza a Molisana. Vediamo i risultati e le classifiche dell'ultimo turno di campionato di questo 2014. Al Maffano Chieniti 3-0, Amiternina, San Nicolò 2-4, Celano Materica 2-1, Giulianova Castelfidardo 0-1, Civitanovese Campobasso 2-1, Jesina, Fermana 1-1, Olimpia Ionese e Maceratese 2-3, San Benedettese e Recadatese 4-0, Termoli, Vis, Pesaro 1-0. 38 punti in Maceratese 36, Civitanovese 34 il Fano, 30 punti la San Benedettese 29 il Campobasso 28 Matelica, 24 Iesina e San Nicolò 23 il Chieti, Amiternina e Giulianova a 19-17, Recanatese 16, Fermana e Castelfidardo 11 il Termoli e Celano, 10 Olimpia Ionese e chiude la Vis, Pesaro a 9 punti. Comprensorio, Vairano, Gambatese 0-0, Gioventù Dauna, Montanquila ancora 0-0, Limpia Icecli, Ternina 2-0, Roccaravindola a Casalnuovo 3-2, Rosietto Fornelli 1-1, Sant'Eriana e Sernia 1-4, Sesto Campano, Vasto Girardi 2-1, Sporti Giumatese, Venafro 0-1. Vediamo quindi la classifica, in testa sempre la Gioventù Dauna, 39 punti, 38 Isernia, 32 Vasto Girardi, 28 Roccaravindola e Sesto Campano, 24 il Comprensorio, Vairano, 23 Venafro, 22 Gambatese e Sporti Giumatese, 21 Riccia, 15 Montaquila, 12 Casalnuovo e Fornelli, 9 punti Cliternina e Sant'Eriana, chiude il Roseto a 5. Scendiamo ancora di categoria, siamo alla promozione, Arife Castelmauro 5-0, Campo di Pietra Torrimagliano 1-0, Petacciato Ermestoro 4-0, 1-1 tra Pietra Montecorvino e Macchia di Sernia, e Cerce Maggiore Montenero, Real Prata Vinchiaturo 1-2, Rivali Mosani, Real San Martino 0-3, Spinete Frentania 2-1. Per una classifica che viene in testa, il Pietra Montecorvino e il Campo di Pietra a 30, a 28 Macchia di Sernia e Spinete, a 27 Montenero e Alife, a 23 Petacciato e Real San Martino, a 18 Real Prata, a 17 Nuovo Pinchiaturo e Quercus Cerce Maggiore, a 16 Castelmauro, a 15 Frentania e Torremagliano, a 12 Armestoro, a 6 Irriba Limosani. L'attaccante è il ragazzo, un regale primo successo alla società del Presidente Calarco. Nel finale esplode la gioia dei tifosi termolesi al Carnarsa contro la Vis Pesaro. Un Termoli completamente rivoluzionato riesce finalmente ad interrompere la striscia negativa di risultati. In settimane i nuovi acquisti della dirigenza Calarco hanno riportato entusiasmo nell'ambiente giallo-rosso. Proprio prima della sosta natalizia, al Carnarsa arriva una delle dirette concorrenti nella lotta salvezza, la Vis Pesaro di Mister Bonvini, che si affida alla coppia d'attacco evacuo dei Ulis. Termoli per 9 e 11esimi, rivoluzionato con gli innesti di Di Matera e Felici in attacco, insieme a Santoro, in difesa il gradito ritorno in giallo-rosso di Giuliano Falco, solo panchina per il colpo dell'ultima ora, Mauro Ragazzu. L'arbitro del match è il signor Guida di Salerno, che avrà il suo bel da fare in tutti e 90 minuti. Il match si apre subito con le due squadre che aggiustano il tiro. Dopo appena 8 secondi, la conclusione di Felici per il Termoli risponde. La Vis Pesaro con evacuo, il suo sinistro termina sull'esterno della rete. Il Termoli sembra più incisivo. Al settimo il cross dalla destra di Di Matera. A centro aria è tutto solo Felici, che però non riesce a dare forza all'insuccata di testa, ci arriva con qualche affanno Teodorani. Il match rallenta, ma è ancora il Termoli pericoloso al 29esimo, ancora con il colpo di testa di Felici sul tiro di Romano, che non inquadra però lo specchio della porta. Un minuto dopo uno scatenato di Matera si accentra dalla sinistra, ma il suo rasoterra è troppo debole. Nessun problema per Teodorani. A soli tre dal termine della prima frazione, il match cambia improvvisamente. Sulla destra, Russi ed evacuo fanno a sportellate. Ad avere la peggio è il giallorosso Russi, che rimane a terra. Dopo qualche secondo di consultazione con il suo assistente, guida, estrae il rosso diretto, prima per evacuo e poi anche per l'incredulo Russi. Le due squadre restano in dieci. Così si chiude il primo tempo. Seconda frazione di gioco che si apre subito, con un cambio tra gli ospiti. Filippucci prende il posto di uno spento Torelli. Il match però si spegne completamente per 21 minuti, quando Di Matera ha una buona occasione sul calcio piazzato dal limite. La sua conclusione a giro finisce di poco a lato. Tre minuti dopo il Termoli rischia di capitolare sul colpo di testa di Filippucci. Risponde distinto Marconato, che salva il Termoli insieme a Cremona, che è reattiva ad allontanare la minaccia. La Vispesaro prende il sopravvento sul Termoli. All'ottantesimo la punizione di Bugaro scheggia la parte alta della traversa. Ma due minuti dopo arriva la svolta. Casu manda dentro la mischia anche Ragazzu al posto di Romano. All'ottantaquattresimo la Vis resta addirittura in nove, dopo un fallo del numero uno Teodorani. Fallo non cattivo, ma le proteste del portiere costano il rosso diretto e l'ingresso del secondo, Franco Lini, che va a prendere posto tra i pali. Ma all'ottantasettesimo arriva la beffa per gli ospiti. Di Matera tenta il jolly, con Franco Lini fuori posizione. Il suo tiro impatta la traversa sulla ribattuta. Il lesto ragazzo, che da posizione ravvicinata in sacca di testa, esplode il Gino Cannarsa per il vantaggio giallorosso, che vale i tre punti ed una vittoria quanto mai sofferta. Finalmente il Termoli può realizzare la testa ed iniziare a crederci. L'Olimpia agnonese strappa applausi e consensi per 85 minuti, poi viene rimontata dalla capolista maceratese a cavallo del recupero. Campionato stregato per i Granata. La maceratese si aggiudica l'intera posta in pali, oltre i propri meriti. L'Agnone, pur disputando la migliore gara interna della stagione, scivola pericolosamente in penultima posizione. Fatale ancora una volta i minuti da titoli di coda. Esordio in casa Granata per i centravanti Stanley Ibe, dopo settimane di attesa. Il nigeriano, reduce dal campionato rumeno, è schierato al fianco di Cantoro per far breccia nella retroguardia dei biancorossi di Giuseppe Maggi nell'ultima partita dell'anno solare. L'Olimpia non si fa intimorire dagli avversari, nonostante i 25 punti di differenza. Ibe si libera al tiro dopo quattro giri di lancette da posizione molto defilata. Sul prosieguo dell'azione si luro di Cantoro, che per poco non inquadra il bersaglio grosso. Donatelli sceglie tra i pali il 96 Vescio, 4-4-2 per i molissani in completo bianco, una mediana grintosa formata da Ricamato e Dilulo Centrali sulle corsie Saltarin e Carpentino. Tridente offensivo per i marchigiani. D'Antoni al centro, supportato dalle frecce, Couca a destra e Marini a sinistra, dirige il barese Carella. Al quarto d'ora si vede la maceratese, pericolo in area Granata, Romano al volo per D'Antoni, palla alta di un niente sulla traversa di Vescio. La capolista gioca a memoria, mette in difficoltà i padroni di casa con verticalizzazioni veloci e precise. Gli ospiti salgono in cattedra e si rendono minacciosi attorno al ventunesimo in due occasioni. Nella prima Vescio è graziato dal colpo di testa da ottima posizione di D'Antoni. Meno di 60 secondi dopo, Pomaresca in diagonale chiude la porta ancora a D'Antoni, servito a centroarea dall'asse Croce-Couco. La squadra di Maggi rompe gli argini a metà tempo. Imbeccato dal solito Croce, dal corner, Ferri anticipa tutti e gonfia la rete con una precisa inzuccata. Cantoro fa tornare i brividi sulla schiena dei tifosi bianco-rossi ingradinata. Sul Mancino a girare, Saita e Lesto in due tempi ad abbrancare la sfera. L'Agnone perde Carpentino dopo appena 38 minuti. Per Donatelli inserisce nella mischia il pari età Lisi. Maggi nella ripresa inverte gli esterni d'attacco Couco e Ferri. Prima conclusione al secondo minuto sul destro dell'imprendibile punta di colore. Con qualche affanno si deve distendere l'estremo di casa Vescio. I bianco-rossi lasciano e il fianco sinistro scoperto. Saltarin premia il traversone sul secondo palo di Pifano e pareggia le ostilità. Immobile sul piattone il portiere Saita. Sulle allide l'entusiasmo premono i molisani. Per vie centrali Cantoro ha ricamato. Saita questa volta è attento alla staffilata. I marchigiani sembrano alle corde. Locali precisi nelle chiusure e pungenti nel far ripartire le azioni sulle torri Ibe e Cantoro. Dopo lo sbandamento iniziale riprendono a macinale gioco i bianco-rossi. Ferri a centro area per Couco sponda all'indietro e Vescio compie il miracolo ma il gioco è interrotto dal fischietto barese per una irregolarità degli ospiti. L'Olimpia non molla la pressa e si rende di nuovo pericolosa dalle parti di Saita. Doppio colpo di testa di Ibe e Saltarin. Rete esplorata di un niente. Maggi si affida Bartolini per Romano negli ultimi 15 minuti di una partita intensa ed inaspettatamente equilibrata. Al trentaduesimo quello che non ti aspetti intuizioni di Ibe per Ricamato che si districa in area in fila di precisione per la seconda volta Saita sul palo più lontano e le civitelle una bolgia. La capolista riversa in massa nella metà campo agnonese. De Grazia affonda a destra e pennella per Couco che in fila di testa la porta di Vescio. Carella annulla per fallo dello stesso numero 11 sui difensori di casa. Punizione generosa assegnata da Carella agli ospiti destro dagliato di Belkaid. Bartolini è lesto a mettere il piede l'ultimo tocco di Natalini nella sua porta nel tentativo in extremis di evitare la rete. Due a due a due giri di lancette ma le emozioni non terminano qui. Croce e spalle alla porta è colpito da Tergo alle caviglie nel tentativo di rilancio della difesa. Carella penalizza ulteriormente Granata assegnando contro un calcio di rigore ad un solo minuto dal termine dei cinque di recupero. Couco è implacabile e trasforma per il successo della capolista una punizione troppo pesante per un agnone in grado di sfiancare gli ospiti per lunghi tratti della contesa come però spesso è successo in questo torneo errori tecnici e cali di tensione affondano in classifica i ragazzi di Donatelli nei minuti conclusivi. Il capo basso cade per la terza volta in questo torneo di Serie D fatali le due punizioni di Degano nel finale della prima frazione inutile la rete di Simone Viani il servizio il 2014 della Civitanovese riserva un finale pirotecnico al polisportivo arriva il blasonato Campo Basso per uno scontro fra titani di capitale importanza sia per la classifica sia per il morale delle due contendenti Rosso Blu all'inseguimento della capolista maceratese distante appena due lunghezze i ragazzi di Mecomonaco vanno a caccia dei tre punti per continuare il braccio di ferro con i cugini biancorossi il Campo Basso staziona al quarto posto a meno sei dalla vetta i lupi molisani cercano una perla esterna che possa accorciare le distanze dal duo di testa e impreziosire un girone d'andata fin qui troppo altalenata splendida la cornice di pubblico sugli spalti come non si vedeva da tempo in memore al polisportivo tantissimi i supporters giunti dal Molise con pullman e auto private si respira l'atmosfera delle partite decisive Civitanovese con Pintori e Degano a sostenere Bombera Modeo in mediana spazio a Margarita che affianca Benzaia e l'ultimo arrivato Bigoni confermata la linea difensiva a quattro con Ficola e Mioni Terzini Aquino e Cossu coppia centrale davanti a Silvestre basta leggere la formazione iniziale del Campo Basso per comprendere la potenza dell'organico a disposizione di Mister Farino che si concede il lusso di tenere in panca giocatori del calibro di Miani Lazzarini e Vitone prelevato di recente dal Materica ospiti con la riete di Gennaro al centro dell'attacco sostenuto da due ali sguscianti come Giovannisci e Todino centrocampo a tre con muscoli e qualità guidato dall'ex fermano Marinucci Palermo in difesa poche novità con Capitan Minadeo e Lander Bosco centrali Fusaro e Scudieri Terzini davanti al giovane portiere Conti classe 96 dirige Palermo della sezione di Bari di fronte a circa 1500 spettatori parte con decisione il Campo Basso che tiene in pugno il centrocampo con autorevolezza e una maggiore reattività sulle seconde palle all'ottavo azione avvolgente degli ospiti Giovannisci riceve palla sul fronte destro si accentra e carica il sinistro sul palo lungo Silvestri è battuto ma viene salvato dal montante Civitanovese timorosa e capace di replicare solo con lanci lunghi dalle retrovie al quattordicesimo Aquino pesca Margarita in profondità posizione regolare per il numero 7 Civitanovese che manca l'aggancio decisivo sull'uscita di Conti muscolare che lo costringerà a lasciare il campo pochi minuti dopo per Forgione ci prova ancora la Civitanovese su palla inattiva al diciassettesimo angolo velenoso di Degano dalla sinistra Conti smanaccia sul fondo con affanno poche idee e poco movimento senza palla per i padroni di casa Degano è costretto ad abbassarsi per godere di qualche pallone giocabile e ricucire le distanze fra centrocampo e trio avanzato dopo un avvio frizzante il campo basso perde intraprendenza e si limita ad un possesso palla puramente conservativo al trentasettesimo discesa di Fusaro sulla sinistra cross interessante sul secondo palo per Todino anticipato per un soffio dalla retroguardia di casa torna a spingere la scuola di Farina ma in questo frangente la Civitanovese ha il merito di trovare maggiore compattezza a centrocampo in fase di non possesso sporcando la circolazione di palla dei molisani e proteggendo maggiormente il pacchetto arretrato in avanti resta eccessiva la distanza fra le punte e i centrocampisti ma la giocata individuale è sempre dietro l'angolo al quarantunesimo punizione dalla lunga distanza di Degano conclusione all'apparenza non irresistibile che perfora l'incerto Conti per l'1-0 Civitanovese tre minuti dopo l'ex Monza e Ancona concede il bis stessa mattonella stesso esito letale per il campo basso in questa occasione Conti può fare ben poco traiettoria imparabile per il giovane portiere molisano che si insacca sotto la traversa increduli i giocatori di Farina per larghi tratti del primo tempo in pieno controllo della gara ma puniti da due episodi nel finale di tempo 2-0 Civitanovese all'intervallo il tecnico ospite lascia negli spogliatoi il difensore Fusaro per inserire Miani e passare a un 4-2-4 iper sbilanciato il messaggio dalla panchina è chiaro rischiare il tutto per tutto e scatenare l'assedio nella metà campo Civitanovese in avvio di ripresa i padroni di casa provano ad arrotondare il bottino creando un paio di situazioni insidiose per i molisani ma al sesto la contesa si riapre sul lancio dalle retrovie Cossu prova ad appoggiare di petto verso Silvestri che in cespica lasciando la porta sguarnita Miani da perfetto opportunista si infila e mette dentro la rete delle 2-1 sulle ali dell'entusiasmo i lupi si fiondano alla ricerca del pari all'ottavo su un angolo dalla destra capitano Minadeo rovescia a botta sicura Silvestri miracolosamente si salva Farina cambia qualcosa a centrocampo fuori Marinucci Palermo dentro l'ex Matelica Vitone ospiti protesi in avanti Civitanovese manovriere in contropiede al quattordicesimo volata dipintori sulla destra tiro cross deviato che per poco non inganna Conte è solo una sporadica azione di alleggerimento si gioca ormai in una sola metà campo al diciassettesimo punizione di Vitone appena fuori area di rigore pallone allambire il palo alla sinistra del portiere la Civitanovese soffre terribilmente le punte lavorano poco in fase di non possesso e il centrocampo consuma ben presto le scorte di ossigeno per tamponare le incursioni del campo basso come nel primo tempo il pregio dei rosso-blu è quello di opporre un solido argine ai limiti dell'area di rigore che contiene la furia degli ospiti al ventesimo punizione di Degano che cerca il trist dalla sinistra pallone che accarezza la trasversale tra il ventiduesimo e il ventitresimo assalto interminabile degli ospiti che cingono da sede all'area locale la scuola di Miecomonaco pasticcia nei disimpegni e non riesce ad alleggerire la pressione Di Gennaro mette in mezzo da destra ponte aereo di Miani intercettato dall'uscita liberatoria di Silvestri che spezza l'apnea della Civitanovese al venticinquesimo spazio centrale per Pintori ma conclusione tenue facilmente bloccata da Conti Farina inserisce Vitelli per Todino Mecomonaco irrobustisce la diga con Massaccesi e Biagini per Degano e Pintori il 2-2 sembra nell'area e invece il forcing del campo basso perde vigore e lucidità gli ospiti non hanno più benzina nel motore e si perdono nei meandri della difesa rosso-blu dopo 4 minuti di recupero la gara si conclude sul 2-1 per la Civitanovese una Civitanovese cinica e operaia che ha sofferto per larghi tratti della partita ma ha capitalizzato al massimo le giocate di Degano spietato sui calci piazzati il duello con la Maceratese prosegue e certamente ci regalerà emozioni nel 2015 il campo basso scivola a meno 9 dalla vetta ma non è ancora fuori dalla lotta per la Lega Pro la cifra tecnica dei molisani resta assoluta servirebbero meno fronzoli e più cattiveria sotto porta e chiudiamo con l'atletica leggera sono stati poco più di mille gli atleti giunti al traguardo della sedicesima edizione della Maratona di Pisa alle spalle del podista di colore Trier Abdeladi è giunto secondo il molisano Ivan Di Mario con il tempo di 2 ore e 23 minuti come detto è la nostra ultima notizia grazie per la visione e per l'ascolto arrivederci